Un altro luogo baricentrico alla cultura cittadina è pronto a calarsi in una benaugurata quanto complessa operazione di restyling. La Biblioteca Oliveriana è infatti in procinto di veder chiusa a lungo la sua sede di Via Mazza. Entro fine 2023 dovranno infatti iniziare i lavori di consolidamento di Palazzo Almerici che beneficeranno dei fondi PNRR, Rigenerazione Urbana, destinati su Pesaro anche a Palazzo Mazzolari Mosca e al complesso del San Domenico per lavori che inizieranno nel mese di ottobre. Per Palazzo Almerici il piano è quello di ristrutturare i solai fondamentali per la sopravvivenza della Biblioteca e dei carichi dati dal materiale librario e dalle opere esposte oltre agli ampliamenti degli spazi di lettura e al recupero della vecchia torre libraria. Si risana il contenitore ma ora bisognerà pensare al contenuto quanto mai prezioso, ovvero quello di 400.000 volumi che risalgono fino all'epoca rinascimentale. Una destinazione ancora avvolta da dubbi e interrogativi dal tempismo poco felice visto che siamo alle porte dell'anno di Pesaro capitale della cultura 2024. Interrogativi che inevitabilmente trascineranno anche il futuro del Museo Oliveriano appena riqualificato dopo quasi un decennio di lavori e di nuovo parzialmente interessato da nuovi cantieri.